scuola benvenuti ragazzi su questo novità video david brothers qui jaguar e con me a commentare c'è il hero script guarda che si brucia di nuovo nella lava ma quando mori dove spawni? sempre lì so sopra dettagli ok allora facciamo così qua siamo sulla mappa cake defense di fv disco dp ecco cominciamo con i fail come sempre ragazzi come ogni nostro video possibile praticamente noi dobbiamo prendere una spada non così tante spade che casino che ho fatto una spada ho preso 64 spade prendine una ok un arco e tante frecce quindi buttiamo le spade no no lascere lì rimettile bene allora sapete cosa facciamo ora allora con quella la parola di apresenta la mappa mi sembra appunto allora questa è la mappa di disco perchè io auguro appena se l'ho appena detto non è vero non l'hai detto ragazzi basta io non ce la faccio lui non mi sente quando io commento quando io parlo allora premendo questo pulsante qua allora adesso la mappa premendo quel pulsante lì comincieremo un web che sparerà dei mostri in tutti i tipi di mostri dei spawner che ci sono qua sotto e sempre quando il timer di 60 secondi sarà finito noi cliccheremo di nuovo il pulsante e sarà cominciato il secondo wave e così via per voglio l'ho cliccato eh vabbè è cominciato io vi per un motivo molto strano ah io sono con game of ah ok mi sembrava un po' illogica anche tu? no 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 ah ok dol perchè vedevo che non mi colpivano ma infatti è un po' strano sono un po' facile ora ma dopo nelle wave 5 o wave 6 non so non mi ricordo perchè è dato tanto tempo che non ci gioco wow e nel wave 5 si fa molto difficile non si può controllare oh 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 irox ma non muoiono questi attento dietro boy i don't know etch oh 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 mi sembrava che ho fatto un double kill infatti oh muore muore ti serota la spada ma dai oh random drop perchè non mi colpisce questo qua ah vero che mi colpisce ok il wave praticamente è finito uccidiamo anche questi allora come ho detto prima per cominciare il secondo wave che lui mi ha fatto tutto non mi ha dato niente dammi un almeno quello in testo grazie almeno quello in testo ahahahahahahahahahahahahah capo più senza un postato m m ecco per i primi a questi poi allora vai ma comunque tutto ci sono se non sbaglio 12 per il 12 da scheletri odio che schede a mio oddio di questi non sono un po mio dio quanto mi spaventano posto brutto non sto a. no sto per morire 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 metti mio oppo ms gioco vabbè ragazzi sono morto praticamente io non devo fare tp eccetera eccetera ma solo così per farvi vedere un po la mappa non dovrebbe essere una cosa aiuto mi spara uno dal dietro per comunque per chi si è accorto abbiamo comprato un cifro di giochi su steam magari alcuni non si è accorto no 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 due cuori giochi oh mio dio ok io mi devo rilassare gioco vai vai oh mi dico io ho passato sopra la testa ok basta ora ora basta ora basta ora fussero da una spada in diamante tutto in diamante tieni gioco oh mio dio grazie oh mi dico al culo no no guarda di lui tutto diamante si lo stia cazzo e da l'altra cosa quella sopra c'è bella che ti do quello sotto oh adesso ci sono i spider che sono la cosa più inutile si questi sono molto facili sono troppo facili ok e che non spavano neanche se c'è l'unica cosa più baggata c'è bisogna portare un po' di pazienza johnny crick è da un po' che non aiuto ecco non mi eravamo nato sì oh oh sorry ok non sono inutili questi questi ragni eccolo non so da dove partita ma eccolo giac non cadere non so questa spada quella roba ok pronto inutili si ma su se c'è questo qua da dietro che campe oh mio dio sì anche la spada in diamante lui io ho mezzo cuore non colpire tieni giacca tieni hai pure cibo hai pure cibo oh miei 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 pam 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 no basta dai tanto non avevo niente in genere allora mmm sta perché siamo arrivati a metà tipo wave mettiamo ancora un attimo così poco da mangiare che schifo ok possiamo andare nel prossimo wave dai andiamo questo è il wii numero 4 questo qua è ancora facile ehm non è ancora facile lo fanno un po' difficili i scheletri sì l'unica cosa dopo per il resto è troppo facile ecco io per esempio ora ho un cuore aspetta aspetta ok appunto non è che mi dai un'armatura decente sorry niente a prendere le cose lì magari se mi dai la spada oh un cuore un cuore spese copri un cuore un cuore non ho mai avuto un rapporto buono con i scheletri ecco due cori io non ho mai avuto gli scheletri ecco due cori non ce la faccio con i scheletri come addio strabuggato mi deve trasportare oh mio dio dove sono dove sei? aiuto metti io sono stato dentro di te oh cazzo un cuore un cuore erano un troppo puoi fare tp tu ti fai tp tu fai tp da me fai tp tp si sicuro vai cosa faccia? appunto sono baggato rocchi nulla ok ragazzi finiamo qua questo video perché è inutile ma nel senso oh mio dio sono baggato e che facciamo faremo comunque una un'auto ed è tutta le mappe di disco per recensirle maverillac cioè le conoscerà ma certo chi è che non conosce disco tanto non lo conosce vabbè eh ci sono stati di tp che ci hanno chiesto ma che disco e lì in quelli in quei momenti che mi veniva di ucciderlo chi disco se si uccide disco no non disco no no disco quel tipo credo che non conosco disco comunque spero di avere eh di si avervi assoluto l'avere parlato io non ce la faccio ok parlo io se vi è piaciuto questo video mettete un like mettete nei favoriti se vi va se vi va mettete ok spammate questa il nostro canale sulla pagina di melagodo volevo dire eh non fatelo no scherzo a parte se vi è piaciuto il video mettete mi piace un like e siamo gli altri brothers e ciao 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 ciao